E' partito questa mattina il trasferimento al Campolongo Hospital di Eboli, dei ospiti della Casa di Riposo, Istituto Juventus di Sala Consilina, affetti da Covid-19. Sono circa 32 gli anziani che saranno ricoverati nella struttura del Salernitano. Vi stanno arrivando a bordo di ambulanze della Croce Rossa e della Solidarietà. Intanto non si fermano le polemiche, dopo la decisione presa da Asler Regione, di accogliere al Campolongo i contagiati da coronavirus tra i decessi dallo scorso 25 marzo all'interno della Casa di Cura del Vallo di Diano, divenuto un vero e proprio focolaio da contagio. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, che questa mattina ha ispezionato personalmente la struttura della Piana del Sele. Sono da verificare innanzitutto, rendermi conto del percorso esclusivo, dedicato, o del personale, come era tutelato, protetto e quant'altro. Mi sono voluto accertare innanzitutto di queste priorità. La situazione sembra nel rispetto delle norme e delle regole. Io credo che il problema ora non è all'interno della struttura, che ho visto che si sono attrezzati molto bene. Quello che io chiedo all'Asler, al direttore generale Ierbolino, e quello che ho solicitato nella mia nota, è che secondo me il personale sanitario operante, come è capitato in altre parti del nord, deve essere delocalizzato alla fine dell'attività lavorativa, in strutture, anche alberghiere, evitando di prendere contatti con i familiari. La città di Eboli è una città aperta e solidale, e lo sta dimostrando e lo dimostrerà.